Musica Covid, De Luca torna ad invocare la linea dura, il governatore teme un'esplosione dei contagi e chiede più controlli nel fine settimana di Carnevale San Valentino. Situazione preoccupante per i casi nelle scuole, intanto con 1694 infetti resta stabile la curva Covid. Frala su una palazzina, l'ora della solidarietà, la provincia di Salerno mattoriata dal maltempo e dalle frane. Il fango travolge una palazzina di tre piani a Pellezzano. Famiglie salve per miracolo ma costrette a lasciare casa, scatta la raccolta fondi per chi ha perso tutto. Riapre il raccordo ma è polemica per Chelsea, ripristinata la circolazione tra Vellino e Salerno, mentre a Forino è alta tensione per il borgo sott'acqua. Il prefetto spena pronto il piano di evacuazione dei residenti nel sagno, danni ai vigneti per l'esondazione del calore. Villa Ebbe è un tesoro che va in rovina, la vicenda della splendida palazzina neogotica affacciata sul Golfo di Napoli, costruita nel 1922 e di proprietà del comune. Ma da anni è abbandonata al suo destino e gli interventi di restauro sembrano un miraggio. Terra dei fuochi, morti che si potevano evitare, il dossier della procura di Napoli e le correlazioni tra tumori e rifiuti. Don Patriciello accusa, l'oncologo Marfè l'avverte, lo smaltimento illecito degli scarichi industriali è il vero problema di questi territori. Ma al tempo Benevento chiude le scuole, vertice con Mastella e gli altri sindaci della provincia, lezioni sospese fino a mercoledì. Nel Sagno un altro decesso Covid, ad Avellino turna la protesta degli studenti, nel Salernitano oltre 300 contagi in un giorno. Buonasera, ben trovati con il nostro telegiornale regionale. Andiamo subito, dopo aver ascoltato i titoli, a ascoltare e a vedere insieme le ultime notizie che riguardano l'emergenza coronavirus. Il governatore De Luca torna alla linea dura. Più controlli nel weekend di carnevale, quello di San Valentino lo invoca il governatore, mentre la curva dei contagi si mantiene più o meno stabile, con l'indice di positività poco sotto l'8%. Ma intanto l'unità di crisi lancia l'allarme per l'esplosione dei contagi dopo la riapertura di tutte le scuole. In un paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci per contenere gli assembramenti. Si avvicina il weekend di carnevale e San Valentino, che arriveranno in una campania in zona gialla. Per questo motivo Vincenzo De Luca chiede misure urgenti di prevenzione e contenimento. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci una vera e propria esplosione di contagi, il monito del Presidente. Concetti ribaditi nel giorno in cui l'unità di crisi ha segnalato 1.694 nuovi positivi a fronte di oltre 21.000 tamponi. Il tasso di contagio resta di poco inferiore all'8%. Nel report quotidiano anche 12 decessi, in crescita le terapie intensive con 115 posti occupati. Ma a tenere banco è soprattutto la questione scuole. La relazione dell'unità di crisi parla di aumento preoccupante dei casi. Napoli è al primo posto nell'incidenza ogni 100.000 abitanti. Precede Salerno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare e Pozzuoli. Sulle percentuali di contagio invece, dati preoccupanti arrivano da Visciano, Avella e Cervino. E mentre sabato è previsto l'arrivo in Campania di poco più di 28.000 dosi di AstraZeneca, destinate soprattutto al personale scolastico, il Presidente nazionale di Agenas, Enrico Coscioni, nel corso della trasmissione Punto di Vista del direttore di 8 Channel, Pierluigi Melillo, sottolinea i due punti critici del contagio in Campania. Abbiamo un incremento nelle fasce di età 0,5 anni e 13-19 particolarmente significativo. Il problema, per amor di un cielo, non è certamente solo la scuola. Il problema ancora di più maggiore è questi assembramenti della movida. Adesso la cronaca notizia dell'ultimo ratragico incidente stradale avvenuto questa sera lungo la tangenziale Ovest di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, si sono scontrate frontalmente una Fiat Punto con a bordo un 53enne di Castelpoto e una Dai V Matiz con alla guida un 57enne di Benevento. Ad avere la peggio è stato il 57enne del capoluogo Sannita che è morto sul colpo. Violentissimo l'impatto tra i veicoli, inutili purtroppo i tentativi di rianimare il conducente della Matiz. L'altra persona coinvolta nel sinistro è stata portata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, i soccorritori del 118, i caschi rossi che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Restano da chiarire le cause del tragico scontro. E adesso apriamo il primo piano dedicato al maltempo. Il maltempo che sferza il Salernitano e soprattutto c'è l'incubo frane. L'ultima si è verificata a coperchia di Pellezzano. Sventrato una palazzina di tre piani e sono salvi per miracolo i residenti. Ore drammatiche nel Salernitano martoriato dalle frane dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la provincia. Tragedia sfiorata a coperchia di Pellezzano dove una colata di fango ha travolto una palazzina di tre piani in via Livatino. Salvi per miracolo i residenti. Praticamente la salvezza della mia famiglia è stata legata a un pacco. Praticamente aspettavamo un pacco e il corriere non mi ha trovato a casa. Io ho avvisato mia moglie con i bambini di aspettarmi dal supermercato qui a Fratte. E questo ci ha permesso di tardare quella 20 minuti, mezz'ora che è stato il momento in cui è successo questo. Davvero una tragedia sfiorata. Io che sono un cattolico ringrazio davvero il Signore perché non c'erano le famiglie presenti all'interno. Siamo tutti sconvolti, la comunità intera è sconvolta. Queste persone chiedono e devono avere aiuti, assolutamente. L'area è stata sequestrata e inagibili gli appartamenti. Si contano i danni mentre è già partita una raccolta fondi attivata dal club Granata Coperchie per le famiglie che hanno perso tutto. Noi abitiamo qua e siamo veramente sconvolti di questa cosa e mi fa piacere del club che ha organizzato questa cosa. Così i ragazzi qua possiamo aiutarli un po' che sono delle bravissime persone. Intanto rocciatori in azione per le verifiche sul costone dopo la frana di via Croce tra Salerno e Vietri sul mare. La circolazione resta interrotta. Prefetto Coda con sé e sindaco di Cava dei Tirreni hanno chiesto ad autostrade meridionali la sospensione del pedaggio nelle due direzioni del tratto Salerno-Cava dei Tirreni per venire incontro a pendolari e automobilisti. E sempre per il maltempo sono le ore della conta dei danni in Irpinia dopo l'alluvione di ieri. Solo in tarda mattinata è stata ripristinata la sicurezza e quindi i collegamenti sul raccordo Avellino-Salerno in direzione Salerno. Mentre si parla del borgo sott'acqua, quello di San Nicola di Celsi, il prefetto Spena dice se non si risolve il problema saranno tutti evacuati per sempre. Il sole dopo la tempesta, il giorno dopo l'alluvione che ha flagellato l'Irpinia si contano i danni. Frani, allagamenti, smottamenti, il raccordo a tuo stradale Avellino-Salerno è stato riaperto solo in tarda martinata e in un solo senso di marcia. Da ieri una frana ha interdetto il tratto autostradale, creando molti disagi alla circolazione stradale. Resta allarmante invece la situazione a Celsi di Forino, dove le abitazioni di via San Nicola sono ancora sommerse dall'acqua. Anche oggi gli operatori della protezione civile hanno assistito i residenti con i gommoni. Attenzione massima dunque a questo territorio. Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ha lanciato l'ennesimo appello alle istituzioni. E il prefetto, Paola Spena, invece ha ipotizzato addirittura una soluzione di sgombero definitivo per quella zona. Su Celsi c'è un lavoro che sta facendo anche il sindaco, perché si può ragionare anche, diciamo, oltre che gli interventi che sono stati già messi in campo, anche valutare se alcune abitazioni possano, con la condivisione degli stessi occupanti, immaginare un trasferimento in un'altra località. Sul caso sono intervenuti anche il consigliere regionale Maurizio Petracca, che stamane insieme al consigliere comunale Umberto Rubinaccio si è recato a Celsi per visitare i luoghi colpiti. Per dare una soluzione al problema, ha spiegato, sono state già stanziate risorse per oltre 2 milioni di euro come finanziamento del primo lotto di un progetto. Si tratta di liquidità non ancora nella disponibilità del comune di Forino, per una carenza documentale che va assolutamente colmata. Tensione notata anche nel Sannio per l'esondazione del fiume Calore, soprattutto in quei territori già colpiti dall'alluvione del 2015, ma ci racconta tutto. Alessandro Fallarino. Dopo 5 anni e mezzo dalla terribile alluvione del 2015 nel Sannio, nullo quasi è stato fatto per la messa in sicurezza dei fiumi e in generale dei corsi d'acqua che attraversano la città di Benevento e l'intero territorio. Nella notte il fiume Calore, alimentato dal Sabato e dal Tammaro in piena, è esondato nella zona di Contrada Pantano allagando i terreni. Una situazione difficile da affrontare per i residenti, che hanno ancora vivo il ricordo di quando le loro abitazioni finirono sott'acqua. L'unica cosa che dispiace è che si cerca di mettere tamponi un po' dappertutto, pezze dappertutto, e invece purtroppo per la manutenzione dei fiumi, degli alvi, le toppe non si ci mettono mai. Se si ci pensa, si ci pensa sempre dopo, quando il disastro è avvenuto. E questa è una cosa molto grave. Noi aspettiamo sempre, siamo sempre fiduciosi nelle istituzioni che promettono sempre, speriamo sempre il buon Dio che qualcuno si risvegli e mantenga le promesse. Dura la denuncia che arriva anche dalla Col di Retti, dopo che ettari ed ettari di vigneti ed altre culture sono state sommersi dal calore in Valle Telesina. Danni ingenti per le piantagioni ed un nuovo invito a denti di istituzioni, affinché parta una seria e rapida messa in sicurezza di tutti i corsi d'acqua che attraversano il sannio. E adesso andiamo a Napoli, vi raccontiamo la vicenda di Villa Ebbe, un tesoro in rovina, un tesoro dimenticato nel capoluogo partenopeo. Un tesoro in rovina, questa è Villa Ebbe, palazzina neogotica affacciata sul golfo di Napoli, costruita nel 1922 nel quartiere San Ferdinando. In cima alle antiche rampe di Pizzo Falcone, la palazzina è stata semidistrutta vent'anni fa da un incendio e l'angue abbandonata, nonostante le proteste che periodicamente esplodono. Ma facciamo qualcosa, siamo tutti colpevoli, non dobbiamo trovare il colpevole, siamo tutti. Rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di salvare noi stessi, vi prego. La villa è frutto dell'ingegno dell'architetto Young, britannico, ma napoletano nell'animo, che qui morì suicida e restò in residenza della Muglie Ebbe. La villa è attualmente proprietà del comune di Napoli, nel 2005 fu approvato un progetto che la immaginava centro culturale, sede di un museo interattivo. Nel 2008 la regione approvò per Villa Ebbe un finanziamento per oltre 3 milioni di euro. Da allora una serie di gare d'appalto per il restauro trascinate anche davanti al Tar. Dal momento in cui che l'ha acquistato il comune di Napoli è stata la distruzione del castello e di tutte le rampe. Le rampe sono state occupate da gente che non aveva casa e il castello improvvisamente è stato incendiato. Per alcuni ormai il sito è irrecuperabile. Resta in piedi la torre quadrata con i suoi contrafforti in pietra vesuviana e il loggiato ad arco resta la magnifica terrazza con vista sullo spettacolare Golfo di Napoli. E adesso parliamo della terra dei fuochi. Dopo il dossier che conferma il legame tra tumori e rifiuti, in particolare per i giovani, Don Patriciello accusa che abbiamo sempre avuto ragione. Nel 2016 l'accordo che la procura di Napoli Nord stipulò con l'Istituto Superiore di Sanità dopo quasi 5 anni arriva alla conferma del nesso causale tra siti di rifiuti e aumento dei tumori in alcuni comuni della cosiddetta terra dei fuochi. La mappa conta 2.767 siti di smaltimento illegale di rifiuti in 38 comuni per una popolazione di 354.000 persone maggiormente esposte al rischio. Tumori al seno, malformazioni congenite, leucemie con grave incidenza nella fascia tra 0 e 19 anni ci dicono quello che tutti già sapevamo ma che finora nessuno aveva messo nero su bianco. Durissimo il commento di Don Patriciello e il parroco di Caevano che affianca da sempre le madri della terra dei fuochi dice avevamo sempre avuto ragione, non mi interessano le scuse, oltre al danno in questi anni quante beffe abbiamo dovuto subire proprio da chi avrebbe avuto il dovere di rimboccarsi le maniche. Secondo l'oncologo Antonio Marfella non bisogna confondere però il problema con lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il vero danno, dice, lo fanno i rifiuti industriali. Oltre 1,5 kg al giorno di rifiuti industriali prodotti in regime di evasione fiscale che anche oggi in Campania come in tutta Italia andranno ad avvelenare qualcuno o qualche territorio. Questi sono i rifiuti che ci ammazzano tutti e di cui nessuno ancora ha deciso di mettere in tracciabilità per cui non è importante, come si dice, partire dalle bonifiche ma partire dagli impianti e dalla tracciabilità di questa categoria di rifiuti. E adesso l'approfondimento dedicato all'emergenza Covid. Andiamo nel Sagno dove l'indice di positività si attesta intorno al 6,9%, un nuovo decesso e scuole chiuse ma per il maltempo. Nel Sagno scuole chiuse da sabato fino a mercoledì prossimo a causa del maltempo ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella al termine della riunione a Palazzo Mosti con i primi cittadini della provincia di Benevento per fare il punto sulle scuole. Una decisione assunta in considerazione delle avverse condizioni meteo previste nei prossimi giorni ma l'attenzione resta alta per le scuole e il tavolo tornerà presto a riunirsi. Ci siamo consultati nel corso della nostra riunione e non c'è questa insorgenza drammatica come si poteva immaginare. C'è come ho detto invece a secondità di Gimbe un 6-9% che tocca l'intera popolazione e quindi la decisione è quella di rinviare ulteriori valutazioni laddove in sorgesso le elementi che possono preoccupare. Però per intanto abbiamo anche stabilito tutti quanti assieme. Sabato chiudiamo le scuole, fino a mercoledì quindi giovedì riprendiamo. Diversi primi cittadini presenti alla riunione al Comune di Benevento l'obiettivo al momento è proseguire con decisioni condivise. Il tavolo comunque è costituito quindi ci sentiremo ad oras per qualsiasi tipo di problema sul piano scolastico. Poi invece c'è una situazione straordinaria che è quella della meteorologica. Restano invece chiuse le scuole superiori ad Airola dove il sindaco ribadisce. Manterrò la linea rigida e valuteremo, valuterò le situazioni giorno dopo giorno. Intanto nel sagno l'indice di positività si attessa al 6,9% e purtroppo si registra un nuovo decesso nei reparti Covid del Sampio. Non ce l'ha fatto un 87enne del capologo Sannita ricoverata nei reparti dell'ospedale dedicati all'emergenza coronavirus dove ad oggi sono 37 pazienti in degenza. Intanto sul tema delle scuole legate al coronavirus, l'aumento dei contagi ad Avellino restano chiuse sopra le scuole superiori e domani gli studenti scendono in piazza. Ad Avellino scuole aperte ma solo per asili elementari e medie. Le superiori restano a casa, così ha deciso il sindaco Gianluca Festa per impedire assembramenti e diffusione del contagio. Ma gli studenti non ci stanno e hanno annunciato una manifestazione di protesta. Ora basta con la didattica a distanza, dicono i rappresentanti dell'UDS che chiedono soluzioni alternative e spazi sicuri ma soprattutto chiedono orari di ingresso differenziati con un incremento del numero delle corse dei bus da e per la città di Avellino dai comuni della provincia. Secondo i dati diffusi dall'unità di crisi della regione Campania in Irpinia sono in tutto 25 i casi di studenti positivi nella fascia tra 14 e 19 anni 11 tra 0 e 5 anni, 17 i casi nella fascia delle elementari tra 6 e 10 anni e per le medie si contano solo 6 casi di positività. Nel frattempo l'asola di Avellino comunica che da ieri sono aperte le adesioni alla campagna vaccinale per docenti e personale scolastico. Si partirà non appena arriveranno le scorte di vaccino AstraZeneca per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni e progressivamente fino alla copertura totale. Intanto in Irpinia nelle ultime 24 ore si registrano altri 46 casi di Covid su 908 tamponi. Preoccupa il dato proveniente ancora una volta dal comune di Montoro dove si registrano altri 13 positivi. E al Moscati ancora una vittima si tratta di un novantenne di Santo Stefano del Sole. Intanto il coronavirus rialza la testa anche a Salerno e provincia e soprattutto sabato si parte anche con le vaccinazioni per gli ultraottantenni. Il Covid rialza la testa a Salerno in provincia. Solo nella città capoluogo sono 85 casi registrati numeri che arrivano a 306 se si conteggiano tutti i centri della provincia. Dopo la relativa tregua delle ultime ore dunque nuova fiammata del contagio. La città è stata classificata ad alto rischio nel report dell'unità di crisi regionale a proposito dell'incidenza del coronavirus nelle scuole. Oltre Salerno preoccupa anche Scafati dove sono invece 39 i tamponi positivi. Sabato l'ASL darà il via alla fase 2 della campagna vaccinale. Il piano prevede la somministrazione a 27.000 ultraottantenni grazie alla sinergia tra l'azienda sanitaria e l'ospedale Ruggi. Le fiale saranno distribuite nei 5 hub della provincia Salerno, Nocera Inferiore, Ballo della Lucania, Battipaglia e Polla. Ancora da ultimare, nonostante i rinforzi arrivati negli ultimi giorni, la campagna vaccinale per il personale sanitario che fa riferimento all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Tutti vaccinati. Dobbiamo ancora completare la vaccinazione di alcuni operatori del centro Lars o anche di qualche altra struttura accreditata. Però ritengo nei prossimi giorni di chiudere il discorso con la somministrazione delle prime dosi. I giudici della Corte di Appello di Napoli hanno confermato le pene inflitte ai due imputati per l'omicidio del 26enne di Montesarchio ucciso a colpi di fucile, il cui corpo fu trovato poi carbonizzato sul Monte Taburno, nel Sagno. Confermate dalla Corte di Assisi di Appello di Napoli le condanne a 30 e 18 anni decise il 29 gennaio di un anno fa al termine del rito abbreviato per l'omicidio di Valentino in Prota. 26 anni di Montesarchio ucciso con due fucilate il rimenuto carbonizzato il 4 maggio del 2018 in una Fiat Punto alla località Cepino di Toccocaudio, sul Monte Taburno. In particolare Spitaletta, a 52 anni di Toccocaudio, è stato condannato a 30 anni di reclusione e a 18 anni Pierluigi Rotondi, un 32enne originario di Tocco. Un delitto al centro delle indagini del PM della Procura di Benevento Assuntatillo e dei Carabinieri che ha come movente la rapina e l'omicidio preterindenzionale di un 83enne di Montesarchio, morto all'ospedale Rummo due settimane dopo il raid di cui il 10 aprile del 2018 era rimasto vittima. Fu picchiato in casa insieme alla sorella 85enne. Secondo gli inquirenti, il 26enne, poi ucciso sul Monte Taburno, avrebbe minacciato Spitaletta di chiamarlo incorreta se nel caso in cui fosse stato arrestato non avesse ricevuto assistenza economica per sé ed per la famiglia. Parole che avrebbero indotto Spitaletta nel timore che in prota potesse collaborare con la giustizia per alleggerire la sua posizione ad organizzare in concorso con Rotondi l'omicidio del giovane. Stanno bene, sono tornati a volare questa mattina due rapaci nel bosco di Capodimonte. Si tratta di un falco e di un gheppio recuperati in condizioni di difficoltà e curati dal servizio veterinario dell'ASL in sinergia con il centro di riferimento igiene urbana veterinaria insieme ai medici veterinari del centro di recupero animali selvatici Federico II. Ringrazio il direttore del museo di Capodimonte, Belanger, per aver cooperato ancora una volta con l'ASL. Questa volta, detto Ciro Verdoliva, direttore dell'ASL Napoli 1, la sinergia tra le nostre organizzazioni ha permesso di poter restituire al loro habitat naturale i due splendidi rapaci. Rapaci che erano stati recuperati entrambi in condizioni di difficoltà a novembre e dalle analisi radiografiche, emersa per entrambi i volatili, la presenza di schegge metalliche compatibili con proiettili di arma da fuoco. E a Napoli ci spostiamo un po' distanti da Capodimonte, poco distanti, andiamo a Rione Sanità, tornano i visitatori nelle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. Vediamo. Riaprono dopo tre mesi di chiusura a causa del Covid le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso a Napoli, nel Rione Sanità. A sorprese è arrivata anche una visitatrice dalle Hawaii. La 25enne ha potuto godere dell'atmosfera resa più intima dalle limitazioni anti-assembramento. Emozionati i 40 soci della cooperativa La Paranza che gestisce lo storico sito. Dopo tanti mesi di chiusura forzata sentivamo il dovere e soprattutto la voglia di riaprire e di accogliere chiunque venga. Sono arrivati i primi visitatori. Le nostre visite guidate durano circa un'ora e li portiamo alla riscoperta delle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso che si trovano appunto a Rione Sanità. Seguiamo tutti i protocolli di sicurezza, quindi misuriamo la temperatura ai nostri visitatori, c'è proprio una parte triage dove appunto vengono segnati tutti i dati dei nostri visitatori. C'è una guida per ogni tot di persone. Le catacombe saranno visitabili esclusivamente su prenotazione. Saremo aperti il giovedì e il venerdì. Gli orari sono classici 10-17 per le catacombe di San Gennaro, mentre per le catacombe di San Gaudioso saremo aperti dalle 10 alle 13. Ogni ora piena parte un tour. È possibile acquistare il biglietto sul nostro sito appunto ai catacombe di Napoli oppure fare una prenotazione telefonica e vi aspettiamo. Da parte di me è tutto. Grazie a Michele Urciolo in regia e buon proseguimento su 696 TV. Grazie a Michele Urciolo in regia e buon proseguimento su 696 TV. Grazie a Michele Urciolo in regia.